teatro al fieri gremito per lo spettacolo il nostro nome donne leggera libera dal buio che mi ha portato fino qua è come se vivessi una nuova vita la vita che aspettavo quella vecchia esaurita in un solo gioco è stato come una scarica elettrica senza interruzione energia si disperdeva nel terreno mi lasciava senza poco questa sera la commissione pari opportunità ha voluto lanciare un messaggio importantissimo no alla violenza contro le donne ma lo sai professore? io devo ancora cenare e voglio uscire lo sai appena aperto la polpa di casa BAM! in una sberla in pace il rabo cos'è detto? lo devi mettere bene in testa altrimenti non so come va bene mi chiamo Valentina che credo nel lavoro è stato bellissimo vedere le componenti della commissione pari opportunità che si sono proprio cimentate nel recitare sul palco protagoniste dello spettacolo alcune componenti della commissione pari opportunità che dirette da regista Alessio Bertoli si sono messe in gioco attraverso lo strumento del teatro veicolando un messaggio di impegno e di contrasto alla violenza in tutte le sue forme attraverso lo strumento del teatro 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 attraverso lo strumento del teatro